A proposito di codice deontologico, volevo comunque ricordarvi che sulle agende c'è una prima parte dedicata a questo, quindi per le emergenze last minute si può sfogliare l'agenda e andare a cercare gli articoli del codice che possono interessarci. Passo la parola all'Avvocato Vicenzotto che ci porterà un sacco di esempi pratici, visto che suo malgrado risponde alla rubrica l'Avvocato risponde dell'Ordine e quindi ogni giorno ha a che fare con i nostri dubbi. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente, ringrazio per l'invito. Saluto Antonella in ultima fila. Sì, temi complessi. Abbiamo già visto sul tavolo un sacco di situazioni che noi tutto sommato passiamo la nostra vita a studiare i meandri della mente e dopo ci troviamo a che fare con le denunce, le querele, l'articolo 622 del codice penale, il commercialista, le fatture. E questa è una cosa veramente devastante. No, no, lo dico. Anche perché io e il buon Marco, che ho il piacere veramente di conoscere, dovremmo scrivere un libro perché io ho quanti? Una centinaia di lettere, perché faccio una rubrica tipo Novella 2000 dell'Avvocato nel sito dell'Ordine. Cosa vuol dire? Che non entro proprio nel merito andando a vedere le carte, ma insomma uno mi scrive, se l'Avvocato è successo questo e questo, io più o meno, più o meno gli do. Però è un ottimo spunto perché se io ti passassi tutti i quesiti, avresti un florileggio di situazioni che veramente potrebbe essere un vademecum anche per il Knop perché tutti gli psicologi, guarda, le dieci cose che hai detto, tutte e dieci ho un quesito con la stessa identica cosa. Nell'occasione di questa simpaticissima oretta, quanto abbiamo? Insomma, più o meno che abbiamo insieme, io in realtà sarei chiamato a parlare di quest'altra bestia che in qualche modo è collegata mani e piedi con il segreto professionale e tutto quanto, che è l'applicazione della legge sulla privacy. Voi tutti non sapete, o forse qualcuno lo sa, ancoratevi bene alla sedia, che dal 25 maggio 2018 entrerà in vigore una nuova legge sulla privacy, cioè il regolamento europeo 679 del 2016, che è un regolamento sul trattamento dei dati personali, sostituirà, dico in modo a tecnico, sostituirà il decreto legislativo 196 del 2003, cioè la vecchia legge sulla privacy. Io cercherò di darvi delle pillole per capire dove va a impattare questa cosa, ma prima di tutte sarà il famoso moduletto, l'informativa e il consenso al trattamento dei dati, che se non altro non cambia moltissimo, ma con l'ordine vedremo di farne un modello perché, ecco, questo è la punta dell'iceberg della privacy, perché come voi tutti sapete la privacy è ormai fogliettini, pezzi di carta, presto consensi, senza neanche leggere cosa c'è, in realtà dietro il concetto di privacy ci sono delle cose importantissime, ci sono delle cose importantissime, per fortuna i codici deontologici, sia quello dello psicologo sia quello dell'avvocato, pongono il punto di vista importante, cioè quando tu vieni a conoscenza di dati, informazioni, soprattutto se delicate, di una persona, tu porti a casa un pezzettino di quella persona, porti a casa un dito, una gamba, eccetera. Quando tu porti a casa una cosa fisica, un pezzettino fisico, non è che dopo vai al bar, lo lasci sul tavolo, dopo un po' ti ricordi, torni indietro, gli riprendi il dito che avrebbe, cioè scusate la, però la privacy non è pezzettini di carta, la privacy è una cosa più importante, detto questo. Ma prima di andare a questo simpaticissimo nuovo regolamento europeo con 7-8 pillole interessanti, fra cui una chicca, fra cui una chicca, presidente, questa è simpatica per gli psicologi, la lancio subito dopo anche il testo normativo, ma stiamo andando verso una società dove l'elaborazione del dato e dell'informazione tratta dal social network, dall'uso di internet, dal un milione di stimoli che il mercato ruba ai cittadini, viene utilizzata per fare profili psicologici, viene utilizzata per fare assunzioni, viene utilizzata per fare ecco. Il nuovo regolamento europeo ha un paio di considerando, ricordo che i considerando sono l'etica della norma, che dicono è vietato il trattamento automatizzato di dati idonei a rivelare profili psicologici, se utilizzato esclusivamente per prendere delle decisioni che hanno influenze giuridiche sull'interessato. Questo è molto interessante perché l'ordine, quando cominceranno a venire fuori dei siti web, dove tu compri un abbonamento, metti il nome e cognome di tizio, questo fa l'analisi dei social network e dico beh questo qua potrebbe essere bravo in fabbrica perché è uno così, no? E quindi quella roba lì è automatizzata, l'ordine potrebbe intervenire, far chiudere il sito dicendo no, quella cosa lì è vietata dalla norma, ci vuole che quel profilo lì sia poi vagliato da un professionista, uno psicologo, eccetera. Parliamo da qui ai prossimi dieci anni. Da qui ai prossimi, però questo regolamento europeo qui ha un'importanza etica su che cosa sta succedendo ai nostri dati personali, un'importanza etica fondamentale in prospettiva e per fortuna è un regolamento, sapete che è un regolamento che si applica a tutti i Paesi membri, quindi non ci sarà lo shopping, io Google di turno vado in Lussemburgo a mettere la mia sede legale perché tanto lì c'è una legge sulla privacy più favorevole, quindi qui stiamo parlando di cose fatte con una certa intelligenza. Ma prima di arrivare al regolamento europeo dicevo, io mi sono permesso sempre nella mia qualità di novella 2000 degli psicologi rispetto alla legge, di portare così nel contesto di questo convegno sulle responsabilità tre casetti, tre casi pratici che mi sono accaduti, no? Casini, era un lapsus come vuoi dire, no no ma sì, casini, ci sono di quei quesiti che neanche ogni tanto facciamo un connubio in studio per capire come uscire da sta roba, vabbè, tre casi pratici che userò insomma un po' per vedere. Vediamo un attimo, innanzitutto, questo è il regolamento europeo che dicevo prima, tecnicamente è il regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento, eccetera, eccetera. Ma dopo mi soffermo. Vediamo il caso numero uno. Per fortuna non riguarda le rogne, ma ogni tanto mi capita, ogni tanto mi capita. La mia libera professione è compatibile, incompatibile con altre attività professionali che svolgo o posso svolgere? Caso tipico, buongiorno, io lavoro per l'azienda sanitaria, ho un contratto a tempo determinato, però ho anche lo studio. Posso, non posso? Oppure sono dipendente a tempo indeterminato del centro salute mentale, eccetera, posso svolgere? La questione è ovviamente che bisogna sempre andare a vedere il caso concreto, cioè andare a vedere il contratto. Vediamo la domanda, le scrivo per un quesito relativo ad un possibile conflitto di interesse, perché poi c'è anche il tema del conflitto di interesse. Attualmente lavoro come consulente per un'azienda all'interno della quale svolgo diverse tipologie di attività, ma non percorsi di psicoterapia, poiché non previsti nel mio contratto. Recentemente una persona che ho visto all'interno dell'azienda per un colloquio clinico, richiesto come approfondimento dal medico aziendale, ha manifestato l'interesse di seguire un percorso di psicoterapia, no? Quindi, per quanto suddetto, tale percorso potrebbe svolgersi solo all'interno di un contesto privato, ma l'azienda sostiene che ciò non sia possibile, in quanto né è etico né è legale. Quindi lui ha dato lì e ha detto, guarda, uno mi ha chiesto se può venire, posso? L'azienda giustamente ha detto, non esiste, tu lavori per me, io ti pago, sei mia, tutta mia, solamente mia. Le chiedo gentilmente un parere. Allora lì, io ovviamente non avendo in mano il contratto di lavoro, ho dato un'idea generale. E in linea generale ho detto, fate attenzione, se lavorate per una pubblica amministrazione, ci sono due norme, che è l'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001, e un DPR, che è il DPR 62 2013, dove si dice che chi lavora per la pubblica amministrazione è sposato con la pubblica amministrazione e non può avere scappatelle con altri datori di lavoro. Siano essi a tempo determinato, a tempo indeterminato, libera professione, in nero, e tutto quello che volete. Questo vuol dire che se lavorate per un comune e voi avete alle 4 del pomeriggio il vostro studio, dove ricevete, e il comune se ne accorge, è possibile il licenziamento, perché è una giusta causa di licenziamento. A meno che, a meno che, a meno che, non abbiate due cose. O l'autorizzazione, 53 bis, ma l'autorizzazione ormai viene data per cose occasionali, non in conflitto di interesse, ma viene valutata. Due, o avete un part-time sotto il 50% delle ore. Allora, in quel caso lì, potete fare quello che volete. Pubblica amministrazione, sto parlando. Mentre, se lavori con un privato, e per privato intendo la signora che lavorava nell'azienda, un'associazione, molto spesso le associazioni danno molto lavoro ai... e puoi essere dipendente o avere un contratto di consulenza con questa. Se avete un contratto di consulenza, bisogna guardare il contratto. Se nel contratto c'è scritto, voi vi darete la consulenza all'azienda Pinco, Pallino, l'azienda E, fino al 2018, con una clausola di non concorrenza o con una clausola di esclusiva. Ecco, allora lì si ragiona nel fatto che, essendoci la clausola di esclusiva, contrattualmente voi, se fate qualcos'altro, potreste infrangere. Quindi, violare l'obbligazione di quella clausola e essere soggetti a una richiesta di risarcimento. Mai visto e mai è caduto. Comunque, se mai dovessero farvi dei contratti di prestazione professionale, leggeteli bene o fateli leggere o mandateli alla rubrica, l'avvocato risponde. No, perché è giusto, sono quelle clausolette lì, quelle che potrebbero fregarti. Altrimenti, ovviamente, siete assolutamente libere. Stessa cosa se ci fosse nel contratto di lavoro a tempo indeterminato. Cioè, ci sono aziende che pongono delle clausole di esclusiva nei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Se invece lavorate per un privato e non ci sono clausole, il contratto in sé, cioè il fatto che tu lavori per un privato, non presuppone l'esclusiva. Quindi tu alle nove di sera potresti fare la tua libera professione. Attenzione, questo dal punto di vista deontologico, che lo psicologo, articolo 40, non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. Quindi io lavoro in un'azienda e dopo per sotto passo il biglietto da visita e dico, ai vecchi, vieni da me che sono bravo. No, quella cosa no. E poi, articolo 22, l'obbligo di non procurarsi in debiti i vantaggi utilizzando il proprio ruolo, i propri strumenti professionali. E questa è l'altra sfaccettatura. Andiamo a vedere un altro caso, il secondo. E tocca proprio quella questione, guarda, mi veniva da ridere perché le slide io le avevo fatte ancora a suo tempo, quella questione sulle CTU, CTP, la mia libertà nella CTP, il mio ruolo di avvocato. Prima dicevi, l'avvocato chiede allo psicologo, fammi una relazione per dire che questa qua è fuori di testa, così io vado nella separazione e ho un'arma in più. Classica sta roba. Cioè, è l'avvocato che manca di cultura dello psicologo. Lo psicologo non è un distributore automatico di bevande dove metti la moneta e ti viene fuori il codio. Eppure ci sono anche colleghi nostri dove, sì, a me è capitato una cosa, con una collega nostra dove ha avuto una relazione da uno psicologo, dove oltretutto non solo parlava del suo cliente, ma parlava anche di altri. Questa li posita in giudizio e quell'altro minaccia di cittarlo per violazione della privacy perché ha spifferato, boh, lì siamo in un altro campo. Però capite che i guai possono comportare queste cose. Vediamo il caso perché è molto particolare. Vorrei chiederle quali sono i confini professionali e di responsabilità, anche deontologica, di una prestazione di consulenza svolta in qualità di CTP in un processo civile, ovviamente di separazione. L'avvocato mi ha chiesto di calcare alcune parti di mia relazione e di portare il CTU a conclusioni specifiche. Cioè, questo lo dobbiamo tirare, il CTU è il consulente d'ufficio, no? Alla fine, il CTU ha fatto la sua relazione e l'avvocato, contento o meno del mio operato, era scontentissimo, mi ha chiesto di mostrargli tutte le carte che ho raccolto per la prestazione, in particolare quelle che non ho presentato il CTU nella causa. Cioè, adesso voglio vedere se hai fatto bene il tuo governo, perché ti faccio un mazzo così, perché abbiamo perso la causa, perché il CTU si è appiattito completamente alle tesi dell'altro CTU e quindi noi siamo rimasti fregati, no? Allora, qui io vi lascio le slide, perché sono sicuro che questa sera, anziché andare agli aperitivi, vedrete tutte le slide del convegno, ma in realtà il ruolo del CTU è nel processo e quello di rispondere a eventuali quesiti. Quindi il CTU è, tante volte, no, avvocato Cino, il CTU è quello che fa vincere e perdere le cause, il 99%, no? Quindi, sì, voi potete andare da un bravo avvocato, ma se non viene il CTU giusto la causa la perdete. Ma questo è un altro discorso e andrebbe approfondito. Molto più delicato, invece, il ruolo del CTP. Il CTP, ho cercato di tirar fuori una definizione, il ruolo del CTP è quello di affiancare il CTU in ogni sua attività al fine di sostenere o contestare le osservazioni da lui prodotte, qualora esse si rivelino non confacenti nei limiti di scienza e coscienza, cioè, veramente si arriva alla etica dopo, nei limiti di scienza e coscienza agli interessi della parte per cui egli lavora ed in sostanza alla linea difensiva dettata all'avvocato. Quindi, le due tesi opposte sono, io sono il CTP dell'avvocato Cino, psicologo, io sono psicologo e lui è l'avvocato, non devo fare io il CTU, sono, come posso dire, organico ad una linea difensiva del mio avvocato, ma ha coscienza e coscienza, e questa è la grande difficoltà, e questa è la grande difficoltà. Sei consulente dell'avvocato parte che ti commissiona l'incarico, quindi, è chiaro che non puoi scrivere cose false, è chiaro che non puoi scrivere cose tendenziose, è chiaro che non puoi scrivere, e questa cosa deve essere messa chiaramente in luce all'inizio del rapporto, perché se no si arriva a... Allora, no, si arriva. Quindi, fatti chiari, amicizia lunga. Poi, ovviamente, nella mia etica professionale e nel mio anche punto di vista scientifico, io posso calcare magari anche, come posso dire, retoricamente alcune parti, però sempre nel contesto, ok? Quindi, l'attività svolta dal CTP, oltretutto da un punto di vista giuridico, dopo forse Alberto ne parlerà di più, si inquadra nel contratto di prestazione d'opera professionale, e pertanto il consulente sarà tenuto a usare una diligenza professionale elevata, e quindi io non posso inventarmi cose, no? Perché vado a violare anche un articolo del codice civile, oltre che deontologico. Quindi, nel caso che è successo in quella situazione lì, tizio, lo psicologo fa a sua parte il CTP, viene sconfessato pienamente, l'avvocato arrabbiato nero vuole, boh, forse fare causa per il risarcimento, sì, per chiedere, no? Perché non ti sei comportato bene, e allora gli chiede, gli chiede tutte le cartine, soprattutto quelle che non hai dato, o quelle che non hai mostrato nella CTP, no? Come mi devo comportare? Se l'avvocato mi chiede il materiale, cosa devo dare? Per correttezza e massima collaborazione con il tuo committente, io gli darei tutto il materiale effettivamente utilizzato nel corso della CTP, non è un segreto, quello non è un problema. anche e soprattutto quando, no, quello presentato in sede di perizia, mentre escludo informazioni su soggetti terzi assolutamente estranei e fatti di causa, che magari ho raccolto nella mia, si parla della nonna, della zia, eccetera, e dal punto di vista deontologico, segreto professionale, c'è? Con il mio avvocato? C'è, sicuramente c'è, però c'è un altro articolo che dice nel caso di collaborazioni con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione. Questo concetto non è nato per quel caso lì, cioè la CTU, un po' la diatriba fra l'avvocato, è nato, è nato per i lavori in equip. Mi ricordo tanti anni fa abbiamo fatto un bel convegno a Monfalcone sul psicologo e il lavoro in equip, forse era 5, 6, 7 anni fa, no? E lì è chiaro che voi spessissimo lavorate in equip, allora voi dovete chiedervi, sto lavorando in equip con il barista del tenda? No, sto lavorando in equip con un medico, con un avvocato, con persone soggette, insegnanti, chi lavora con la scuola sa benissimo il rapporto strettissimo che c'è con la scuola, ecco, in quel caso lì, ecco, io posso dare informazioni ulteriori rispetto a quelle che avrei col segreto professionale. Tornando al nostro caso, tornando al nostro caso, non ritenga che l'avvocato possa intimare, cioè quindi che tu sia obbligato a dargli tutte le informazioni, ma in un'ottica di rapporto collaborativo, anche alla luce dell'articolo precedente, qualcosa si può far vedere. Ma non siamo schiavi dell'avvocato, questo è il messaggio che passa. Caso 3, denominato panico. No, è da panico, perché, vediamolo, sono stata contattata dalla madre di una ragazza di 17 anni perché la figlia cominciasse un percorso di sostegno psicologico per richiesta della ragazza stessa. I genitori ovviamente stanno divorziando e in seguito sono stata contattata dal padre, il quale mantiene la potestà. Sono rari i casi in cui il giudice determina l'esclusione totale di una potestà genitoriale, quindi più o meno sempre, anche se i genitori sono divorziati, litigano, si tirano i piatti tutti e due nella potestà, va bene, che vuole avere un colloquio con me. Relativamente a questo, volevo sapere quali erano i limiti del segreto professionale. Il codice deontologico è chiaro riguardo al mantenimento del segreto professionale, ma la questione minore è un po' nebulosa. chiaro che se io sto facendo una prestazione psicologica a un minore e il padre e la madre mi vengono a chiedere come sta andando, stesso discorso di prima, devo dare o non devo dare? No, sì, non è semplicissimo. Prima di cui hai detto no. No, adulti. Adulti, beh, adulti ovviamente, beh, è chiaro, sì. Ma al minore, il minore ha 13 anni, sicuramente i genitori avendo la potestà, devo dire tutto quanto, ma 17 anni? A 17 anni io devo dire il genitore? Adesso andiamo a vedere, perché andiamo avanti. Pertanto, sono tenuto a comunicargli il contenuto delle sedute che svolgo con la figlia oppure il mio vincolo è verso la paziente, anche se minorenne? Infine, un'ultima cosa, nel caso in cui il padre non consentissi a che la figlia inizi la terapia, può impedire l'effettivo inizio del percorso o è sufficiente l'assenso della madre e ovviamente della ragazza stessa? Come devo comportarmi nel caso in cui il padre appunto non voglia firmare il consenso? Ringraziandola, eccetera. Queste tipologie di quesiti che me ne arrivano tantissimi sono la disperazione dell'Antonella, perché io gli rispondo dopo sei mesi. Perché? Ma non perché non ho voglia, ma perché come fai a dare una risposta in poche righe, no? Modello Novella 2000 a sta roba qua. E allora io lo faccio partire, lo rielaboro, dopo lei mi scrive, dai che c'è urgente, dai che... E' difficile rispondere. Allora, in linea di massimo lo uso come spunto. Qui ci sono, mi aiuta per dire due cose. Quando fate una prestazione professionale, si parla di consenso, ci sono sempre due consensi. Uno è il consenso alla prestazione professionale che è legato al codice deontologico articolo 31 e soprattutto al consenso dei genitori, se stiamo parlando di figli minori, previsto dal codice civile. Due è il consenso alla privacy. Quindi abbiamo due moduletti diversi, non dobbiamo fare confusione fra i due. Ogni tanto anche con i medici mi capita, ah io il consenso lo tengo. Sì, ma quello è il consenso alla prestazione, non il consenso alla privacy. Questo si intreccia poi nel difficile rapporto, la domanda fra il segreto professionale, il diritto alla privacy di un paziente minore, il diritto dovere di un genitore di conoscere la salute. Adesso con Lorenzini anche noi saremo pienamente dentro questi concetti di salute. Non è indifferente quella piccola particolare che ci infila dentro il mondo della medicina e non il mondo della giustizia, non solo dal punto di vista burocratico. Perché la domanda fondamentale è il minorenne, parto dalla privacy, ha il diritto alla privacy? Un minorenne ha il diritto alla privacy? E qui si discute di una cosa molto semplice. Voi sapete che minore è un soggetto incapace d'agire, quindi non può validamente compiere atti giuridici e minore è colui che ha meno di 18 anni. Chiaramente noi abbiamo ragazzi che a 17 anni hanno già fatto esplodere due autobus, hanno già avuto tre figli, ormai il concetto dei 18 anni è un concetto ormai così. Allora si è elaborata tutta una serie di situazioni giuridiche dove si dice, questo è il codice del diritto del minore all'assoluto ai servizi sanitari, molto interessante, e torna a mani piene quando entreremo nell'alveo dei centri delle professioni sanitarie, quindi dispone il minore a qualunque età ha un suo diritto alla privacy. Tutti gli operatori che si prendono cura di lui sono tenuti a mantenere il segreto professionale su tutto ciò che lo riguarda durante e dopo il ricovero. Frase molto molto contestabile, va contestualizzata perché poi dicono, attenzione, quando si parla di minore con tutela alla privacy, non è qualunque minore, ma un minore che abbia dimostrato un minimo di consapevolezza delle conseguenze delle sue azioni. Quindi si parla di minori sicuramente sopra i 14-15 anni, con una valutazione di chi? Vostra, di psicologi che dicono questo è uno che comunque è in grado di. Allora si comincia a ragionare. Sulla base di questo presupposto, ad esempio, il nuovo regolamento europeo dice, ad esempio, che un minore può prestare a 16 anni il consenso della privacy online. Quindi possono massacrare i nostri figli di dati personali quando lui vuoi WhatsApp, sì sì, consenso, sì sì sì, e intanto ti analizzano la vita, eccetera. Quando? 16 anni. Il nuovo regolamento è così. Qui lobby potentissime hanno fatto pressione per questa data e tant'è che sapete qual è il compromesso? Non ditelo a nessuno, ma il regolamento europeo dice 16 anni e dopo il comma sotto dice i singoli paesi membri possono autorizzare consensi anche ad età inferiore con una norma locale. Però al massimo fino a 14 anni. Quindi ci saranno paesi, tipo l'Irlanda, lo dico già, dove diranno 14 anni. Negli Stati Uniti il consenso è a 14 anni. Facebook, tant'è che tutti i consensi privacy di Facebook, WhatsApp, eccetera, con le sede legali negli Stati Uniti, vedete che è a tutti i 14 anni. Ma adesso con il regolamento glielo faranno alzare a 16 fino a quando un paese membro lo abbasserà a 14. Va bene, va bene, va bene. C'è un'altra chicca ed è quella che è contenuta nel GDPR, quindi nel regolamento europeo sulla privacy. Allora, tutti i regolamenti hanno gli articoli, 1, 2, 3, 4, 5, e sopra hanno i considerando. I considerando sono i commenti che si fanno nella redazione del regolamento. E dicono, i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, in particolare. Belle, belle parole, dopo me le hanno portate a 16 anni. Ma lasciamo stare. Ma io vado nella parte in rosso che dice il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione e di consulenza forniti direttamente a un minore. Ah, bella questa. Bella questa. E parliamo di privacy. Io penso che quando verrà sviluppato dai giuristi e dall'elaborazione dottrinale, questa frase che è considerando 38, forse, forse potremmo dire che a determinate età e ex legge, adesso si interpreta, ma ex legge non dovremmo chiedere il consenso ai genitori, ma solo al minore. Ve la metto lì come chicca. Questa cosa siamo ancora come avvocati i pochi pionieri che stanno esplorando questa normativa sulla privacy perché è molto complessa. Però queste chicche dentro ce ne sono parecchie e dopo ve lo vediamo. Il punto è quando siamo sotto all'età della ragione e quindi serve effettivamente il consenso alla privacy del genitore, ovviamente qua io mi darei... Sarà che una bella cosa. No, no, io direi io direi di tenerci alla luce di tutto questo i 16 anni, ma fino a quando non svilupperanno quella piccola parte dell'articolo 38 e considerando continuiamo come abbiamo sempre fatto. Vi dico una chicca. Consenso alla prestazione professionale, cioè questo. articolo 31 codice deontologico eccetera, serve di entrambi i genitori senza se e senza ma come benissimo ha detto Marco prima. Consenso alla privacy serve di entrambi i genitori? No. Perché c'è giurisprudenza che dice che il consenso al trattamento dei dati personali è comunque un atto di ordinaria amministrazione perché è vero che è invasivo ma non è uno di quegli atti di ordinaria amministrazione quindi basta il consenso di uno. Ve lo dico per chicca perché alla fine tu hai il modulo del consenso informato con le due firme dei due genitori la pagina dopo è quello della privacy gliele fai firmare a tutti guai umano non si sa mai. Però giusto per vi do questa informazione. Andiamo al consenso alla prestazione consenso alla prestazione. Il tema affrontato da Marco è stato visto dal punto di vista correttissimo del codice deontologico ma il consenso di entrambi i genitori ha una radice profonda nel codice civile prima e insieme al codice deontologico ed è articolo 30 della Costituzione il codice civile nell'ambito civile è dovere diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio quindi mantenere istruire ed educare è il capisaldo della vita del figlio e la prestazione psicologica non può non uscire e non c'è scritto è dovere del singolo genitore mantenere dai genitori 147 codice civile doveri verso i figli 148 codice civile concorso agli honor 261 codice civile diritti e doveri derivanti al genitore da riconoscimento tutto questo corpus mi fanno dire entrambi entrambi i genitori eccolo qua è valida la prestazione psicoterapica sul minore con il consenso di uno solo assolutamente no entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità inclinazioni eccetera eccetera cosa succede in caso di contrasti in caso di contrasti ciascuno i genitori può ricorrere senza formalità al giudice altra cosa importantissima che ha detto Marco non è lo psicologo che chiede al giudice se può fare la prestazione glielo dà la madre e la madre va dallo psicologo che è come un grande giudice lo psicologo è come un grande giudice quindi mi partono ogni tanto e l'accio il sabato mattina è terribile allora oltretutto continuo a mettere chicche civilistiche le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione all'educazione alla salute alla salute sono sempre assurte di comune accordo articolo 155,3 317,2 quindi ancora carne al fuoco dell'errore fatale della psicologo che fa una prestazione psicologica con il consenso di uno solo dei genitori quindi ha problemi deontologici ma può avere anche problemi con l'altro marito che vi fa causa dopo la responsabilità non lo so ecco casi strani separazione e divorzio come ho detto prima a meno che non abbiate mano il decreto del giudice che dice che la potestà genitoriale è affidata in via esclusiva perché il marito è un pazzo omicida che ha tutti e due scomparsa morte beh la morte ovviamente la scomparsa è un altro caso che mi è capitato avvocato io devo fare una prestazione psicologica la è è venuta la madre e gli ho detto scusi mi serve il consenso del padre padre chi? ma io non so neanche dov'è ma è negli Stati Uniti era nella base americana di Aviano ci siamo sposati adesso lui è preso è andato via come mi comporto? anche qui il codice civile ha un articolo che dice adesso non ho la slide eventualmente scrivetemi che qualora si è comprovata l'irreperibilità di uno dei genitori è possibile fare un atto di straordinaria amministrazione ma io consiglio sempre di rivolgersi al giudice però c'è l'articolo c'è separazione con affido esclusivo non importa chi ha affidato il bambino quindi l'ho detto prima limitazioni relative della potestà genitoriale bisogna sempre vedere bisogna sempre vedere il giudice codice deontologico invece articolo 31 l'abbia già detto Marco quindi salto a pie pari il tema torniamo a va bene torniamo al tema fondamentale cioè del quesito è diritto dei genitori richiedere e ottenere copie della documentazione completa relativa alla prestazione professionale delle svolte a favore del loro figlio compresi test valutazioni cartella clinica eventuali relazioni e qui per gli stessi motivi di prima io dico di sì quando ci avviciniamo ai 17 anni ne riparliamo con calma però fino ai 16 anni sicuramente sicuramente 16 17 anni sicuramente sì la 17enne dipende vediamo il contesto oltretutto oltretutto per chi lavora nella pubblica amministrazione c'è lo stramaledetto tra virgolette diritto di accesso agli atti che ricordo oggi è diritto di accesso 241 del 90 e hanno introdotto un altro diritto di accesso con una recente riforma che si chiama FOIA che non è una malattia ma è un freedom of information act è il diritto di chiunque di vedere cosa sta facendo una pubblica amministrazione non è il caso di parlarne ma non riguarda dati sensibili quindi se fosse un FOIA voi non date niente ma se è una 241 del 90 cioè affido esclusivo non so mi è capitata questa cosa assurda minore affidato al sindaco perché i genitori sono in grave eccetera il padre siccome il sindaco lo affida ad una struttura in appalto del comune il padre fa un'istanza di accesso agli atti per vedere in base a quale motivazione è stato mandato in quella struttura lì che è per problematici così e non è la struttura là e c'è il fascicolo con la relazione dello psicologo dell'assistente sociale della valutazione eccetera devo dare io questa cosa al padre assolutamente sì con tutto assolutamente sì e gli viene dato tutto e lui lo prende in visione ovviamente l'avvocato del padre comandato è lì vale lo stesso la cosa stupenda era che lo psicologo mi ha lasciato o non si sa se lo psicologo è l'assistente sociale l'assistente sociale i psicologi sono bravi mi lascia dentro il fascicolo per errore un certificato medico della psichiatria dell'ospedale dove si attesta che la madre le fora detesta che è un errore perché poi quando l'avvocato ha cominciato a sfogliare aspettandosi di trovare all'interno del fascicolo solo questioni relative al figlio come stava si trova sta qua che è una perla per lui perché dopo se la prende la usa in giudizio dice questo qua le fora detesta allora lui che cosa fa chiede copia di tutti gli atti compresa quella cosa lì mi chiama segretario comunale dice avvocato ma secondo me cosa dobbiamo fare qua abbiamo sbagliato era dentro eccetera io ho detto boh innanzitutto fate la copia di tutto ed escludete quella cosa lì motivando per il fatto che comunque era privacy di un soggetto terzo non interessato eccetera l'avvocato sbraita eccetera eccetera manda una lettra noi gli rispondiamo perché per fortuna ho trovato una sentenza analoga del tar dove dice corretto il comportamento del comune che a fronte di un'istanza di accesso che erroneamente presentava al suo interno un certificato di un soggetto terzo non ha dato ancorché questo terzo fosse comunque collegato eccetera quindi questo per dire cosa lasciamo stare l'aneddoto ma massima attenzione se lavorate come periti se lavorate come consulenti o se lavorate in una pubblica amministrazione all'ordine che avete all'interno del vostro fascicolo perché ai sensi della 2.41.90 c'è sempre qualcuno che può buttare l'occhio dentro psicologo Vicenza mi chiama non è Friuli Venezia Giulia io avrei aneddoti veramente perché adesso non so neanche quanto tempo ho tu tirami le orecchie lui fa una relazione psicologica in ospedale per un soggetto e nei suoi appunti mi scrive negli appunti proprio che poi sono finiti nel fascicolo dall'atteggiamento comunicazione non verbale frasi eccetera pare aver subito violenze questo soggetto pare aver subito violenze è messo dentro la procura della Repubblica chiede chiede in fase di indagini i fascicoli di questo signore qua perché perché ha avuto un'indagine in corso e si trova scritta sta roba qua cosa fa convoca lo psicologo come persona informata sui fatti avvocato cosa devo fare devo dire non devo dire problemi di prima ma io ho detto ma perché hai lasciato gli appunti a penna perché nella relazione psicologica non c'era scritta sta roba ma era sai quando tu ce l'hai davanti e prendi appunti velocemente perché ci stava e boh era tutto lì ho buttato dentro e tanto no fate massima attenzione di quello che scrivete perché è vero che avete il segreto professionale ma ci sono alcune casistiche soprattutto quando lavorate o quando arriva la magistratura andiamo avanti scusa posso fermarti yes hai nominato gli appunti credo che ci sia una differenza poi tra appunti e relazione o test che noi assolutamente quindi come viene intesa questa cosa assolutamente la questione è la seguente se parliamo di diritto di accesso agli atti quindi pubblica amministrazione marito che chiede il coso per giurisprudenza costante gli appunti cioè quello che non si è formato in modo completo in un atto tipizzabile il test la relazione eccetera non sono oggetto di ostensioni quindi tu quando ti chiedono gli accessi agli atti ovviamente ti guardi tutto il tuo fascicolo togli gli appunti perché non c'entrano niente e te li metti in tasca questo se sei in un problema è quando arriva la procura e mi dice dammi sequestro tutto e quelli rimangono dentro lì non è che puoi prima togliere le cose quindi l'attenzione va posta un po' prima quindi voi tenete in due fascicoli distinti le relazioni e le cose ufficiali dalle minute dagli appunti in due fascicoli distinti anche nel vostro studio professionale cioè il fascicolo del paziente ha due cose uno con le cose ufficiali perché fare un minestrone 90 perché questo è importante tu dici il fascicolo caso abitile io farei in un istituto pubblico una struttura pubblica eccetera io ho un fascicolo all'interno della cartella che contiene il dialogo clinico ufficiale le relazioni i mandati eccetera ma stai dicendo che all'interno di quella stessa io posso ottenere un altro fascicolo no te lo tieni sì 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 perché ci sono no te lo tieni perché chi dice che se io scrivo in questo secondo fascicolo appunti di lavoro riservati è tutelante li posso togliere non possono essere anche se sono nella stessa cartella no è un problema è un problema pratico il problema pratico è questo se usi la tua teoria che dice io nel fascicolo ho appunti riservati in parte questo ti tutela perché perché se viene fatta un'istanza di accesso agli atti formale eccetera tu prima di dargli lo togli e lo metti via ma se ti viene la procura alle 8 di mattina e dice dammi tutto quella roba rimane dentro e loro la usano perché sono notizie che Alberto ce lo confermerà quindi ergo quando noi abbiamo queste situazioni molto al limite eccetera chiaro non possiamo fare una regola per tutti e solo nelle situazioni al limite gli appunti riservati dove io mi sono fatto le mie indicazioni è che facendomi una domanda al contrario è se questa roba finisce in mano alla carabinieri cosa sarebbe fuori un casino bene quella roba lì ce la portiamo in un armadio chiuso a chiave nel mio studio o fuori dal fascicolo ufficiale questo è Vicenza accaduto vado avanti vado avanti dicendo guardate c'era la slide non me lo ricordavo potrebbero essere eventualmente esclusi dall'ostensione solo eventuali suoi appunti interni strumentali meramente accessori rispetto ai test e alla redazione di verità quindi le slide sono molto operative con l'occasione vi dico quanto tempo devo conservare i fascicoli dei miei clienti clienti pazienti la teoria nostra è tengo tutto guai un mal per sempre noi abbiamo garage psicologico i capelli bianchi che hanno garage pieni di fascicoli ecco è una questione molto delicata quella in realtà il codice deontologico mi dice per almeno 5 anni successivi alla conclusione del rapporto professionale il problema è cos'è la conclusione del rapporto professionale io posso avere tizio che mi è venuto a 17 anni a 20 dopo mi torna a 40 e a me sarebbe molto importante avere le robe quindi di fatto uno psicologo tiene tutto il problema è tiene dove nella stanza dei giochi dei bimbi che quando c'è il compleanno lo usano per fare gli aereoplanini di carta no dobbiamo avere un sistema di custodia di documenti decente con non dico garage con armadi abbastanza perché effettivamente la questione se dovesse succedere mi viene in mente la procura di Pordenone quando c'è stata l'alluvione che a un certo punto è venuto sul noncello e si è portata via tutti i fascicoli dei penali delle separazioni sai quelli sotto quindi massima attenzione di dove custodite ultima cosa che dico su questo è e se io voglio buttare via fascicoli vecchi eccetera non li portate in discarica o li mettete nel coso ci sono delle società specializzate che per 4 lire vi garantiscono la distruzione sminuzzamento del fascismo sì sì è vero perché però io ho avuto no ma è vero il caminetto è la cosa migliore ma io ho avuto pubbliche amministrazioni il CIM che hanno stanze così adesso qua non ci sono studi grossissimi ci sono studi anche che hanno 30, 40, 50 professionisti e dopo devono smaltire grossi numeri ok bene con la nostra calmina e calmetta siamo arrivati finalmente al regolamento europeo sulla privacy abbiamo parlato di privacy in questi tre casi che ho scelto insomma però adesso andiamo a vedere cosa dice questo simpatico regolamento definitivamente applicabile in via diretta dal 25 maggio 2018 io non mi facerei la testa troppo su questo regolamento nel senso che chi ha fatto bene gli adempimenti della 196 del 2003 con buon senso intelligenza è più o meno è molto più orientato su altri problemi però il tema il tema ve lo pongo la privacy la privacy la privacy è una è una questione molto molto delicata anche da un punto di vista sociologico etico culturale il primo concetto di privacy 1890 Stati Uniti Warren e Brandeis era right to be let alone che è il concetto di privacy un po' che abbiamo noi diritto di essere lasciati in pace cioè io voglio avere un angolo della mia vita dove mi faccio i cavoli miei e nessuno viene a sapere che cosa sto facendo è un diritto innato cioè proprio uno dei diritti fondamentali come il diritto alla libertà all'onore alla reputazione cioè proprio uno dei diritti costituzionali il diritto di essere lasciati in pace tanto che nelle dittature la prima cosa che salta è la riservatezza cioè tu devi far sapere tutto al regime dove stai navigando cosa stai facendo eccetera secondo dopo un po' siamo negli anni vabbè lasciamo stare diritto all'autodeterminazione informativa questa è una definizione di Stefano Rodotà un costituzionalista che ci ha lasciato il secondo garante della privacy italiano e dice la privacy oggi come oggi è la proiezione che tu hai grazie alle informazioni che dai a tanti signori che te le chiedono quindi tu sei tante cose tu sei tante cose in tanti titolari diversi devi decidere tu che cosa vuoi che quello lì sappia come con l'informativa e se lo vuoi devi dargli il consenso quindi l'informativa e consenso è autodeterminazione informativa ha funzionato sta roba? no perché ognuno sì 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 dammi tutto eccetera e siamo arrivati al punto dove c'è facebook se fa un'analisi su di te ti conosce meglio di tua moglie scientifico sa che scelta hai fatto cosa ti piace eccetera eccetera quindi visto che queste due cose fanno fatica a vivere il regolamento europeo passa al di là della stazionata e dice va bene i buoi sono scappati chi ha i buoi li deve proteggere diritto alla protezione dei dati tu hai diritto che chi ha i tuoi dati ormai gli hai dei dati te li protegga e li usi in modo corretto quindi si passa dall'altra parte va bene da questi principi ho estrapolato quella chicca che vi dicevo prima sulla un ruolo interessante degli psicologi nel regolamento che è l'interessato considerando 71 dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto ad una decisione che possa includere una misura che valuti aspetti personali che lo riguardano che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano incide in modo analogo significativamente sulla sua persona scritto nero su bianco le macchine che mi dicono se tu sei idoneo a fare questo lavoro se tu sei idoneo a fare questa cosa sono vietate perché è un trattamento completamente automatizzato è una novità nella 196 essendo del 2003 ancora non si pensava che con l'analisi dei big data riuscissero a fare profilazioni psicologiche come ad esempio pratiche di credito online pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani e ce ne saranno sempre di più tale trattamento comprende la profilazione che consiste in una forma di trattamento automatizzato di dati che valuta aspetti personali concernente una persona fisica in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale la situazione economica la salute le preferenze o gli interessi personali l'affidabilità o il comportamento l'ubicazione e gli spostamenti dove ci produca effetti giuridici che lo riguardano incidono in modo analogo significativamente sulla persona quindi come cani da guardia noi dovremmo valutare e ce ne sono già negli Stati Uniti dei siti dove le aziende comprano un abbonamento mettono il nome e cognome di tizio questi siti hanno dei crawler dei sistemi che vanno ad intrecciare con degli algoritmi le scelte che questo fa nei social network i siti che vede compra dei banche dati da google che gli dà delle indagini eccetera e dicono boh questo qua non è idoneo al tuo lavoro quelle cose lì dobbiamo ci vuole ed eccolo qua ergo ci vuole al fine non dico è vietato sta roba ma ci vogliono vediamo se lo trovo senza perdermi dei signori o delle tecniche organizzative quindi degli psicologi aggiungo io in modo tale al fine di garantire in particolare che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e si è minimizzato il rischio di errori al fine di garantire la sicurezza dei dati secondo modalità quindi ci vuole l'intervento umano che filtri questa cosa qui quindi potrebbe essere interessante lo psicologo che affianca il sito web e a fronte dell'elaborazione del sito web convoca la persona affina parlo psicologia lavoro psicologia dell'assunzione questa è una chicca l'ho trovata studiando il regolamento che sono 300-400 pagine e la trovo interessante il processo decisionale automatizzato e la profilazione basata su categorie particolari i dati dovrebbe essere consentito solo a determinate condizioni qual è la condizione? l'intervento di un professionista che queste cose le fa e le ha studiate e quindi ha tutti gli aspetti della personalità umana che una macchina non sarà mai in grado di valutare torniamo al regolamento torniamo al regolamento quanto tempo ho? wow quello che dovrebbe fare tutta la relazione su questo ma tanto sono poi risponderai alla rubrica eccetera ma abbiamo tempo 25 maggio voglio allora come è impostato il regolamento europeo sulla privacy in un modo perverso dice così la norma caro titolare del trattamento quindi caro studio caro ordine professionale caro comune cara azienda sanitaria devi essere tu in grado di dimostrare a fronte di una violazione che riconforme avevi adottato delle misure idonee per evitare quel rischio quindi capita la frittata il giudice è come il diritto del lavoro cioè come la sicurezza salute in luoghi di lavoro si fa male l'operaio e il giudice dice che cosa hai fatto tu per evitare che questo ti facesse male 95% ti massacra quindi è una logica dell'accountability è una logica dell'accountability qual è il principio base di questa logica di responsabilizzazione sono due parole difficilissime e due articoli difficilissimi che si chiamano privacy by design e privacy by default bello che cominciano a usare anche termini inglesi quindi noi nel nostro attività professionale dobbiamo garantire privacy by design e privacy by default ecco quando voi andate a corsi sul regolamento europeo qui inizia tempesta di cervelli professoroni che vi tirano fuori cos'è sta privacy by design e privacy by default e io l'ho sintetizzata in un modo che sia potabile per tutti questo è Nanni Moretti eccetera e il principio è questo perché è molto semplice se leggete l'articolo non si capisce niente ma il principio è questo io ho un figlio che si chiama Leonardo ha 7 anni ed è ghiotto di Nutella come Nanni come tutti i figli allora io mi sto rompendo le scatole perché sta mangiando troppa Nutella e gli vengono i foruncoli in sedere scherzo ma non fa bene mangiare tanto Nutella come posso evitare che lui mangi Nutella la 196 del 2003 funzionava così metti un cartello sul cassetto grande con scritto attenzione è vietato mangiare la Nutella a meno che non sia un piccolo cucchiaino eccetera questo è la prevenzione della privacy nella 196 del 2003 mentre con la privacy privacy by design la privacy by default il principio è privacy by design la Nutella non la metto in quel cassetto lì la metto a 4 metri di altezza quindi anche se lui volesse disobbedire alla regoletta che c'è materialmente by design quindi al momento in cui io strutturo il rischio lui non è in grado di prendere la Nutella ma voi dite eh amico mio però guarda che tuo figlio è furbo mette la sedia dell'IKEA con sopra il tavolino del coso con la pianta eccetera alla fine si rampica sopra e riesce lo stesso ad arrivare e lì interviene il privacy by default cioè io non vado alla alla COP a prendere il vasetto di Nutella come quello di cosa non faccio come Fantozzi che c'erano i sfilatini dappertutto che ho comprato un milione di sfilatini no io prendo un vasetto di Nutella cosa voglio dire che se anche by design mi fregano quello che viene a trovare il furbastro sono pochi dati personali cioè il minimo indispensabile che mi servono per le mie finalità eh sì è un principio generale di quindi tradotto in termini pratici la si può adattare in qualsiasi moda in qualsiasi modo se io ho un ufficio che condivido con un collega e siamo in due dentro lo stesso ufficio e mi viene un paziente e ci parlo e il mio collega dall'altra parte della scrivania è un privacy by design questa anche se il mio ha la regola che non può diffondere eccetera no io devo avere uno studio idoneo all'ascolto e che materialmente impedisca violazioni se io ho un altro esempio pratico se io ho la scrivania dove ricevo il mio paziente e sul tavolo ho tutti i fascicoli degli altri pazienti poi ci metto sopra il foglio bianco in modo che eccetera è un default è una privacy calcolata by default no perché magari mi alzo un attimo perché mi arriva una chiamata e lui mi alza e vede ah guarda c'è anche la Maria quindi quando io ricevo sarebbe opportuno o se siamo in uno studio condiviso avere una sala dove tutti ricevono ed è una sala assolutamente neutra o se sono tolgo tutto e chiudo quindi capite che questa roba qua già la 196 del 2003 ma l'ottica della 196 era tu devi predisporre delle regole eccetera adesso no tu devi metterle in pratica non cambia molto nella nostra vita molto complessa sta roba qua e nelle grandi strutture nel piccolo studio ma pensa in un comune al centro di salute mentale all'azienda sanitaria strutturare delle cose così è complesso quindi articolo 25,1 by design e by default 25 adesso ci sono sette adempimenti e dopo chiudo che sono gli adempimenti obbligatori vi tranquillizzo perché molti di questi non si applicano ai piccoli studi com'è la platea qua piccoli studi chi è che lavora in strutture organizzate come dipendente a parte ecco non sarà un problema vostro sarà un problema dei vostri datori di lavoro però i vostri datori di lavoro quindi io dirò adempimento piccolo studio no datori di lavoro grossi sì questo è datori di lavoro grossi sì piccolo studio potremmo pensare come ordine di fare un modellino ma secondo me non è indispensabile cioè dobbiamo fare una valutazione dell'impatto privacy che possono avere i trattamenti da me effettuati per la vita intima dei miei interessati cioè devo pormi questa domanda se ci fosse una violazione mi rubassero i fascicoli entrassero con un software nel mio computer un trojan mi portano online tutti i dati la vita del mio paziente sarebbe rovinata e qui l'impatto secondo me dei vostri trattamenti è sempre di altissimo rischio quindi io devo fare un'autoanalisi dei miei trattamenti e dire rispetto agli strumenti che sta utilizzando qual è il rischio che mi violi eccetera e qui torna tutto il problema della del computer io ho un vecchio windows 98 che non ho mai aggiornato che non ha le patch di sicurezza eccetera e lo uso anche per navigare cosa per scrivere i post su facebook eccetera è una roba sicura dal punto di vista delle probabilità no io devo cominciare a interessarmi del fatto che il mio strumento di lavoro è uno strumento accessibile da fuori non dagli hacker non pensate che ci sia un hacker con la sigaretta che viene a puntare voi ormai gli hacker non esistono ci sono dei robot che sparano dei file ed entrano o per cryptar di l'hard disk chi è che ha preso il cryptolocker quel virus che ha cancellato l'hard disk beh dai siamo bene ma ci sono professionisti anche avvocati che gli hanno cancellato l'hard disk e hanno dovuto pagare un riscatto altri che prendono i file e li spediscono inderizzi di post elettroniche figuratevi se a caso spedissero inderizzi di post elettroniche della tua rubrica un tuo file magari di una relazione non è improbabile sta roba quindi spediamoli due lire per la sicurezza dei nostri strumenti per l'amodernamento dei nostri strumenti questo è la valutazione del rischio poi chi è che si ricorda il documento programmatico sulla sicurezza quello vecchio della 196 di fatto ritorna con questo secondo adempimento questa volta lo dobbiamo fare dobbiamo fare l'elenco dei trattamenti che facciamo nel nostro studio è facile trattamenti legati alle prestazioni X trattamenti legati tempestazioni Y poi dovremo dire quali finalità hanno chi sono gli interessati insomma anche qui faremo un modellino ma è il registro dei trattamenti allora mentre l'adempimento 1 era solo per gli grandi studi e forse lo e le organizzazioni e forse lo faremo anche per i piccoli per il 2 è obbligatorio per tutti quindi noi avremo un basta un foglio Excel non servono grandi cose ma che abbia l'elenco di tutte le finalità del trattamento le categorie degli interessati ecco di questi mi soffermo su una cosa trasferimenti di dati personali verso un paese terzo voi direte ma chi se ne frega io mica trasferisco i dati in Slovenia o in Uzbekistan no ma avete Dropbox usate Google Drive quella cosa lì vanno a finire su server all'estero allora vi dico questo i grossi player Dropbox Google Drive i cloud di server cloud stanno adempiendo la norma europea e metteranno il server in Europa quindi non dovremo avere problemi però non si sa mai che servizi usiamo per se fossero servizi che vanno all'estero non dovremmo dirlo nel registro di trattamenti e non sarebbe lecito questo ve lo risparmio perché i piccoli studi non dovranno averlo e i grandi solo se sono dirigenti del settore devono preoccuparsi di questa cosa qui ma se siamo dipendenti chi è questo il DPO è una sorta di responsabile della privacy interna all'ente quindi vado veloce eccola qua questa invece riguarda tutti dobbiamo cominciare a rivedere le storiche informative consensi da far firmare ai genitori non è cambiato tantissimo c'è qualche informazione in più da dare qualche informazione in meno eccetera quindi anche qui moduletto che sicuramente anche il Knop quando prenderà in mano questo argomento arriverà a mani basse io dico di vediamo che tempi abbiamo di non fare i supereroi di arrivare per primi stiamo tanto abbiamo il 25 maggio se vediamo che il 25 maggio non c'è niente buttiamo su un po' di modulistica così almeno abbiamo consenso informato e modulo aggiornato a regolamento sul informativo e il consenso l'altra cosa obbligatoria che rimane è rivedere l'assetto organizzativo della privacy qual è questa roba vi ricordate la nomina incaricato del trattamento la nomina responsabile del trattamento non è un problema per chi è singolo professionista comincia a essere un problema per chi ha la segretaria e magari collabora con tanti allora lì bisogna nominare incaricata la segretaria eccetera su questo tema in particolare il tema del responsabile esterno del trattamento potrebbe essere un problema di questo genere la scuola ci affida in outsourcing o meglio il comune ci affida in outsourcing con una gara d'appalto per un anno il servizio di sportello eccetera il comune con il nuovo regolamento ci nominerà responsabili esterni del trattamento cioè il comune dirà guarda che io ti ho affidato questo incarico per fare questo incarico tu tratterai un sacco di dati personali dei miei cittadini che sono dei miei cittadini quindi quando lo farai ti darò determinate regole ecco io sono curioso di vedere come svilupperanno questa cosa non vorrei che scrivessero dentro cose del tipo il dato personale dovrà essere messo in una camera stagna con 50 persone alla guardia eccetera e tu magari firmi distattamente e non hai gli strumenti quindi anche quella cosa lì man mano che capita andremo a vederla questo eccolo qua responsabile esterno e poi un'altra rogna che c'è che se ci bucassero il nostro server con tutti i dati e parlo di strutture molto più organizzate è obbligatorio dirlo al garante è obbligatorio dirlo al garante anche questo solo per i grandi allora chiudo è stato una panoramica velocissima il nuovo regolamento europeo per i piccoli studi mi obbligherà in più rispetto a quello che io già dovrei avere per la 196 a fare il registro dei trattamenti che è una specie di documento programmatico rinnovare le nomine e scusatemi le informative da dare ai genitori ai pazienti e rivedere le nomine ad incaricato se abbiamo la segretaria eccetera adottare misure di sicurezza informatica molto più sviluppate di quelle che abbiamo per prevenire il rischio se siamo struttura molto organizzata o lavoriamo per un ente a questi quattro si aggiunge la valutazione dell'impatto la PIA la prima valutare quali rischi hanno per il cittadino tenendo presente che questo adempimento forse lo allargheremo a tutti i professionisti se troviamo un moduletto potabile in modo da non riempire di ulteriore burocrazia come dicevamo prima che già siamo ok bene io spero di aver fatto solo un quadro quanto più ho toccato diversi argomenti ci aggiorniamo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti